Bilancio positivo per luglio ad Avetrana, il manifesto estivo ha tenuto compagnia cittadini e turisti ed ora parte ufficialmente il programma di eventi previsto per agosto. Quest'anno abbiamo fatto questa divisione di mesi per una questione di organizzazione e per velocizzare anche il mese di luglio ad agosto. Ci sono degli importanti eventi che inizieranno sia culturali, che faranno qui nel Torrione, ma anche musica popolare. Location principale degli eventi, il suggestivo Torrione di Avetrana. C'è la giostra di Rioni, che è una rievocazione storica che si farà la prima settimana di agosto, c'è il Rock and Roll Festival, che è una manifestazione abbastanza importante, per il primo anno viene svolta da Avetrana al campo sportivo, poi abbiamo Freceno Mangiano con gli Alla Bua, ci sono altre sagre, altri eventi food molto interessanti, c'è sempre la rassegna Griot. Gastronomia e centro storico in primo piano in questo agosto ad Avetrana, una grande sinergia tra amministrazione comunale, imprenditori locali ed associazioni del territorio. Altre manifestazioni sulla carta minori, ma che hanno sempre un significato storico, culturale e sociale di spettacolo abbastanza importanti. Un evento da non perdere assolutamente ad agosto. Beh, diciamo che il mese di agosto è non perdersi a Avetrana.